Israele ha una superficie di 20.770 km2, abitanti 8.049.314, densità 378 abitanti per km2, l'ordinamento politico è una repubblica parlamentare, la capitale è Gerusalemme, la lingua è arabo-ebraico, la religione è ebraica-musulmana, la moneta è il nuovo Shekel. Israele è una striscia di terra lunga 470 km e larga 135, confina al nord con il Libano, ad ovest con il Mar Mediterraneo, a est con la Siria, a est con la Giordania, a sud con l'Egitto e con il Mar Rosso. Inoltre confina con la Cisgiordania e la striscia di Gaza che rappresentano la Palestina. A est, lungo il Mar Mediterraneo, la costa del Mar Mediterraneo, c'è una zona costiera, una pianura, che poi si trasforma procedendo verso l'interno in collina e in rilievi, monti della Galilea, monti di Samaria e monti di Giudea. Poi c'è il Mar Morto che è un lago salato 400 metri sotto il livello del mare, il fiume Giordano che forma il lago Tiberiade e a sud il deserto del Negev e ancora più a sud il Mar Rosso. Per quanto riguarda il clima possiamo vedere che è arido nella valle del Giordano, è mediterraneo appunto lungo le coste del Mar Mediterraneo, è desertico in prossimità del deserto del Negev. La popolazione è costituita da israeliani, c'è un'alta concentrazione sulle coste, verso il Mediterraneo, e è spopolata nella zona del deserto del Negev. Il 75% della popolazione è costituita da ebrei di religione ebraica e lingua ebraica, il 20% da palestinesi di religione musulmana ed etnia araba e lingua araba. E c'è una difficile convivenza, perché sono anni di guerre e scontri tra ebrei e palestinesi. E poi ci sono delle minoranze cristiane, ad esempio Drusi, e l'ordinamento politico è una repubblica parlamentare, il popolo elegge i membri del Parlamento che eleggono il primo ministro, e inoltre dal 1956 vige la legge del ritorno, cioè ogni persona che ha parente di origine ebraica può avere la cittadinanza. Allora, la capitale è Gerusalemme, che ha 800.000 abitanti, che è città sacra però non solo per l'ebraismo, ma anche per il cristianesimo e l'islam. Gerusalemme, esso infatti, è considerata dai palestinesi la loro capitale. Poi c'è Telaviv, con 426.000 abitanti, che è il principale centro economico. Per quanto riguarda l'economia, possiamo vedere che c'è un'agricoltura molto avanzata e produce agrumi, olive, ortaggi, pistacchi, cereali e l'allevamento di bovini e oveni. Inoltre, lungo le coste del Mediterraneo si pratica la pesca. Per quanto riguarda l'industria, importante è il settore chimico, farmaceutico, elettronico, informatico e aerospaziale. E inoltre, ci sono servizi commerciali, bancari e finanziari. E c'è il turismo religioso.